E' qui con noi questa sera Pierluigi Collina! Essendo tu così riconoscibile, io mi ricordo un sacco di partite, cioè le partite che arbitravi tu me le ricordo, mi sembra di ricordarle meglio che le altre. Me ne ricordo un'altra di Beckham dove Beckham scivolò su un tiro decisivo e poi litigarono. Sì, questa era una partita particolare, erano Turchia, Turchia-Inghilterra. Era una partita decisiva per qualificarsi per gli europei del 2004. La Turchia doveva vincere, all'Inghilterra bastava pereggiare. Beckham batte un calcio di rigore all'ultimo minuto del primo tempo, scivolò sull'appoggio del piede, calciò praticamente in curva e il capitano della Turchia non trovò niente di meglio da fare che andare lì a prenderlo un pochettino. Poi la partita riprese, finì il primo tempo, io vedi tutti scappare verso il tunnel di uscita al stadio del Fenerbahce, al tunnel a metà campo, anche io corsi. Diciamo poi due squadre con caratteri forti, cioè tra Turchi e inglesi. Un bel ambiente, io arrivai che praticamente era già successo quasi tutto ed era successo parecchio. Per cui per cercare di avere delle garanzie sul secondo tempo che non continuassero in campo quello che era successo negli spogliatoi, chiamai i due, Beckham e Alpai, che era giocatore turco, e gli dissi due paroline nel mio spogliatoio. A distanza di un po' di tempo Beckham mi disse quello che era irreale nel tuo stanzino non era quello che ci dicevi, eri tu che steaming, cioè praticamente la mia testa, reazione era novembre, reazione dal freddo all'interno, sudore, fumava, mi fumava la testa. Io vedevo che questi avevano una faccia un po' stranita. Non gliene fregava niente di quello che sta dicendo. Allora avevano questa mia immagine con il vapore che usciva dalla testa. Che meraviglia, vabbè, insomma, è servito? Assolutamente sì, secondo tempo non so se era il vapore o peraltro... È per quello, è per quello. Se tu dovessi perdere, metti la maglia della Virtus. Io. Tu? Vien da sé che se io dovessi perdere metto la maglia della Virtus. Ok? Almeno io vedo uno scudetto nel caso, che è una roba che non... Questa è la mia, questa è la tua. Ok, ma non pensare che per me sia più facile, Pierluigi. Sei pronto? Sei carico? Hai il braccio caldo? Posso andare via? No, devi affrontarla a questo punto. Giochiamo insieme a Pierluigi Collina al tiro da quattro! Tiring da quattro! Non lo puoi fare... No! Questa la rimettiamo nel cassettino. Via! Cominiamo a farlo in fretta prima che i debiti si pagano. Si pagano. Vale! È stata una bellissima gara! Grazie! Grazie! Grazie a tutti!